Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video annunciato Annunciato Oppure prende e piega il progetto per il 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Il che ci prannuncia delle belle cosine Speriamo prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima dell'esempio, giornate con mondo di Yu-Gi-Oh! Grazie mille, ciao Mardegola, scusate Allora, Yu-Gi-Oh! 25esimo anniversario Project Begins Un mix italiano-inglese che nessuno ha richiesto Allora, praticamente il progetto che parte dal febbraio 2023 al 4 febbraio 2024 Quindi praticamente un anno in cui ci saranno diversi prodotti Ovviamente Yu-Gi-Oh! Official Card Game lanciato da Konami nel 99 Che è diventato famoso in tutto il mondo Continua a creare la storia ovviamente anche grazie ai suoi editori digitali Al gioco, Rush 2 e via discorrendo Quindi per continuare su questo versante Praticamente ci saranno nuovi prodotti sia digitali che non Anche oltraoceano dedicati al 25esimo anniversario Per tutte le informazioni riguardanti Appunto questa serie di eventi Hanno creato un nuovo sito Che è questo qui, adesso lo andiamo a vedere In cui ci sono diversi prodotti che ora andremo a sbirciare 25esimo anniversario Allora, qui vedete la data Però questa data è la data in cui hanno messo Hanno messo questi annunci Questi prodotti usciranno praticamente tutti quanti da febbraio in poi Come la Carter Century Come le Sleeves Come le Anfore La verità è come questo bellissimo mago nero Realizzato in acciaio inossidabile Perché ci serviva un mago nero in acciaio inossidabile E il tappellino del dragone da tutti là Che è molto figo In più ci sono Delle statuine Non lo so Andiamo un attimino a sbirciare Monster figure collection Quattro Ok, quattro spiriti Ok Va bene Il titolo di questa è qui La Carter Century Collection Rarity Edition Non mi ricorderò mai il nome giusto Perché Se mi ha tradotto Automaticamente Che è questa qui Come avevamo già visto Quindi Molto interessante Arriverà anche da noi Quando usciranno Uscirà la Engineering Collection Per l'anniversario Anche da noi ovviamente ci saranno Delle Delle proposte Oltre a quelle Io spero Mi auguro Quindi queste qui Sono Questo è il sito E questi sono i primi progetti Andiamo a vedere Uscita di Cyberstorm Access Qui in TCG Con la dicitura Delle 25esimo anniversario Sul pacchetto Quindi Cyberstorm Cyberstorm Come Specialmente 25esimo anniversario Oddio Spero di no Vabbè Ovviamente Si scherza Cyberstorm Access Vabbè Sappiamo cosa uscirà Sappiamo il numero De carte Che sono 100 50 76 90 100 E uscirà Il 5 Marzo 5 Marzo O il 3 Maggio Il 3 Maggio 3 Maggio Perché devo sempre ricordarmi Che devo Switchare la roba Che è mese Giorno E anno Quindi A maggio Ce l'abbiamo Se ho sbagliato Al limite A marzo Proprio sia Maggio E lui Chiude l'undicesima Serie Non è finita qui Perché Sono uscite Le ultime carte Del Secret Utility Box Eccoci qui Le ultime carte Rimaste Poi andremo a vedere Tutte le carte Il problema è che Non c'è un modo Per vederle Quindi le devo aprire Tutte e quanti Da yukipedia E Ecco le ultime carte Rimaste Zombieuntore Rickapetal Naturia Externo Exterio Externo Naturia Externo Ti ho ribattezzato così Mi dispiace Folgo Justice Few Rise Rise of the Abyss King Quindi queste Queste sono tutte le novità Per questa mattina E vediamo cosa Uscirà di buono Dal 25esimo Anniversario 25esimo anniversario L'ho soltanto detto 84 volte Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti